Eccoci qui in collegamento live, buon pomeriggio ragazzi, qui Matteo da Dubai, fatemi sapere come sta procedendo, questo è Un Caffè con Matteo, il format che fa impazzire il web, in realtà non è vero che fa impazzire il web, l'ho inventato io, però insomma aumenta l'audience se lo dico, quindi lo dico. Allora fatemi sapere un po' come va, chi è il primo che si è collegato? Dai fatemi un po' un salutino, vediamo chi è il primo che arriva, fatemi sapere se anche voi vi siete portati il vostro caffè, io sono in pausa in questo momento, saranno tre ore di fila che lavoro come un matto, quindi ho detto facciamoci una piccola pausa per entrare in contatto con tutti, Ilaria Mitica come stai? Come sta andando Ilaria? Fammi sapere come procede, se martelli, come sta andando, e chi altro c'è ragazzi? Fatemi un po' un salutino nei commenti, ogni tanto Facebook me li nasconde, ah lì Mitico, ciao! Ciao ragazzi, come procede il pomeriggio? Fatemi un update un po' generale su tutto. Questo qui è un appuntamento dove mi piace entrare in contatto con chi mi segue, con i miei studenti, con chi mi vuole bene e con insomma tutto il popolo di Marketing Genius, chi è appassionato di marketing digitale e parlare un po' delle ultime novità, quello che sta accadendo là fuori e soluzioni per imprenditori e insomma commentare un po' le ultime novità. Allora, Mitico Fabio Gallerani che sei unito, ti sei fatto il coffee? Fabio Gallerani tra l'altro ragazzi non beve caffè, quindi pazzesco ma lui non è un grande bevitore di coffee. Allora ragazzi, parto io, anzitutto mi auguro che vi siate scaricati la app di Marketing Genius, perché la app di Marketing Genius è una bomba, è ufficialmente live, disponibile su tutti gli stores, quindi Google e Android, se non l'avete fatto scaricatela, sei in quarantena Ali? Eh lo so, lo siamo tutti mi sa. Oh, sono arrivati in un po' di commenti di botto, non si sa come, Facebook è veramente devastato. Andrea Mitico, ciao Manuela, ciao anche a Zelia, da Stoccolma, com'è la situazione a Stoccolma? Fammi un po' sapere Zelia, com'è la situazione? Che a Stoccolma non conosco nessuno in questo momento che si trova lì. Qua a Dubai ragazzi, situazione un po' così, in questo momento siamo chiusi da una settimana, ma in realtà gli Alice siamo partiti prima con la quarantena, soprattutto per lavoro, per star dietro a tutto il movimento che c'è. Però qua hanno chiuso completamente tutto, tutto, tutto bloccato, tutto chiuso. C'è il caffè già scaricata e provata. L'hai provata Rocco la app? Grande. Quindi qui situazione pesante ragazzi, non si sa quando finirà e non si sa, non si sa niente. Ogni giorno ti manda il messaggio della polizia, perché qua dovete sapere che suona il telefono da solo, non chiedetemi come fanno perché non lo so, ma qua suona il telefono della polizia e appunto ti dicono ciao devi stare a casa, sei bloccato qua. Quindi è un gran casino, è un gran casino. Ogni giorno ti dicono rimani a casa, rimani a casa, rimani a casa, non ci sono grandi comunicazioni su per quanto tempo eccetera. Vado solamente a recuperare il pc ragazzi, che mando un messaggio alla mia lista, così li informo che sono live, perché alcuni non lo sanno, mi hanno appena informato che non lo sanno. Eccomi, bellissima l'app, l'hai provata Giovanni l'app? Hai visto che roba? Guarda che è veramente una bomba. Mando il link della mia pagina, chi non sa dove sono in diretta, così mi assicuro che arrivino. Voilà, adesso sì che ci siamo. E quindi questa è la situazione ragazzi, siamo in 47 che vi siete collegati, grandi, di solito un po' di più, ma ho sbagliato io a visare la lista. Comunque, anyway, bellissima l'app. Allora l'app di Marketing Genius, per chi non lo sapesse ragazzi, scaricatela sugli stores, è gratis. E io solamente per gli utenti dell'app sparerò dei contenuti esclusivi. Poi i nostri studenti possono accedere a tutti i corsi di Marketing Genius, dalla app, che è molto più comodo rispetto al browser, soprattutto per chi usa il telefono per studiare. E per tutti gli altri ci saranno dei bellissimi contenuti gratuiti solo per gli utenti dell'app. Quindi scaricatela se ancora non l'avete fatto. Per quanto riguarda la situazione là fuori, ragazzi, non so se avete idea del fatto che si prolungherà ancora questa quarantena. Si parlava di far uscire le persone a poco a poco per scaglioni. Non so se sarà per scaglioni di età, ma mi sembra una follia assurda. Oppure per scaglioni in base al lavoro. Quindi magari prima certe imprese e i dipendenti, poi altre e avanti così. Comunque non ci sono indicazioni chiare. Io tutti i giorni segui telegiornali. Una cosa però che è molto interessante, se avete tempo, andate a vedere l'intervista che ha fatto Briatore sulla A7. Lo trovate su YouTube. L'ho vista io questa mattina, mi è uscita tra i contenuti indicizzati. E Briatore in questa intervista, come sapete Briatore è un grande imprenditore, e gli hanno chiesto ma tu qual è la situazione, cioè qual è la soluzione che tu vedi a questo problema? E lui ha detto bisogna fare debito pubblico, ok? E io mi batto per questo, lo condivido sui miei canali. Non mi piace parlare molto di politica, ma in questo caso è una situazione che interessa a tutti, ok? Va oltre la politica questo. Questo interessa a livello globale. Cioè le decisioni che prenderà la politica va a colpire il business di tutti, ok? Quindi in questa situazione l'Unione Europea deve stampare moneta, ragazzi. Io cerco di dire queste cose perché voglio che i miei followers, che chi mi segue, lo capisca. Quando viene stampata moneta si crea inflazione, ok? Ma l'inflazione non è una cosa brutta. E chi ne sa di economia, questa roba ve la può spiegare. Ho trovato un sacco di informazioni. Si chiama spesa a deficit. Sì, esatto. Si chiama stampare soldi, in altre parole, no? E poi appunto se Giuseppe sei pratico di economia, dacci una mano, anche nei commenti. Io ti dico la mia, ma penso che sarai d'accordo. Cioè, quando si crea debito pubblico, non è sbagliato. Cioè noi viviamo con lo spettro del debito pubblico. Ma se il debito pubblico venisse estinto, sparirebbero i soldi. Non so se avete capito questo. Se tutto il debito pubblico che noi abbiamo fosse pagato, non ci sarebbero più soldi in circolazione. È impossibile. Quindi non c'è niente di sbagliato se uno Stato si indebita con se stesso. Il problema è che noi ci indebitiamo con le banche e poi dobbiamo dare indietro questi soldi, che però sono sempre delle banche. Quindi è una roba assurda, ragazzi. Se vi andate a studiare come funziona il sistema monetario, capirete che i soldi sono stampati, sono buttati in circolo. Noi andiamo a lavorare per poi ridarli indietro a chi li ha stampati. E questo è il debito pubblico, essenzialmente. Non ha senso. È un sistema che non ha senso. E prima o poi queste robe verranno sistemate, ne sono convinto. Comunque, al di là di questi discorsi, quello che vi sto dicendo è che probabilmente se questi provvedimenti saranno presi, ci sarà un'enorme liquidità che verrà buttata nel sistema economico. E non sono i 300, 400, 600 euro a famiglia quello di cui si parla, ma è molto di più. Stiamo parlando di un sacco di soldi che devono essere destinati alle imprese per rimanere a galla. Guardatevi l'intervista di Briatore, che è disumana, ok? La trovate su YouTube. Lui dice, le imprese portano avanti l'economia, non i decreti, ok? Sono le imprese. Se le imprese vanno a bagno, ragazzi, il paese muore, ok? Quindi è quello che dice lui, no? Bisogna fare interventi a favore delle imprese. Che io penso che verranno fatti, ok? Penso che verranno fatti. Con un ammasso di liquidità enorme che verrà buttata nel sistema economico. Però deve andare alle imprese, ok? Non alle amministrazioni comunali che poi li fanno sparire. Cioè i soldi devono andare alle imprese che devono dare lavoro e da lì si riparte. Quindi io sono molto positivo, ragazzi. Sono qui a commentare gli ultimi avvenimenti dal mio punto di vista, ma io sono molto, molto positivo, ok? Il rischio di liberatore dice più o meno le stesse cose. Sì, io le dico col mio modo di fare, con il mio debito pubblico, il regime di sovranità non è altro che la ricchezza del settore privato, detta in due parole, eh sì. La guardo subito. Guardatevele, ragazzi, l'intervista di liberatore è molto, molto interessante, ok? Li stampiamo noi, dice Rocco, esatto. Poi li possiamo anche stampare noi. Quindi, io vi sto dicendo questo, perché? Perché io vedo degli spiragli positivi. Cioè già il fatto che il governo stia pressando la BCE per fare interventi potenti di liquidità è una cosa bella. Cioè, io non vedo tutto nero, anzi, vedo ottime possibilità di ripresa. Se questo non avviene, allora entriamo in una recessione che non ha fine. Però io penso che questo avverrà, non ci sono alternative, ci vuole liquidità potente da buttare nel sistema economico. Questo avverrà quando? Non lo so, ma penso veramente in tempi brevi. Quindi, se noi capiamo questo, non demoralizziamoci, ok? Anzi, iniziamo a fare azione. Ripartirà il sistema. Magari lentamente, però ripartirà. Quindi, tu imprenditore, tu libero professionista, cosa vuoi fare? Vuoi rimanere lì a piangere o vuoi invece metterti in azione per digitalizzarti, per studiare, per potenziare il tuo business in questa fase? E adesso che lo devi fare? Non domani, non dopodomani. Quindi, io a quant'è che lo dico, ragazzi? Quando è partito il discorso del coronavirus, la prima cosa che ho fatto è stata fare un video dove ho detto, ragazzi, secondo me sarà una cosa lunga. Mettetevi lì, con calma, fate azione, potenziate il vostro business e digitalizzatelo. In pochissimi mi hanno ascoltato, veramente in pochi, ma chi l'ha fatto in questo momento non sente la crisi. E tra poche settimane, quando si ripartirà, non la sentirà la crisi. Tutti gli altri, ahimè, andranno giù. È la prova del Nobel per l'Unione Europea. Finora non c'è stato modo di affrontare il problema. Sono d'accordissimo. Sono d'accordissimo, Giovanni. No, ma l'Unione Europea io, boh, da quando la conosco non l'ho mai vista così attiva, no? Quando c'era il problema dell'immigrazione lasciavano il problema all'Italia, no? Adesso c'è il problema della recessione, boh, spero che si attivino, no? Il debito pubblico, ho perso il commento, in un momento del genere bisogna dare più valore alla vita e lo devono capire i potenti. D'accordissimo, Matteo. D'accordissimo. Quindi in queste dirette, ragazzi, ogni tanto si parla anche di attualità, ma secondo me è importante parlare di attualità, vedere un po' i commenti di tutti. Secondo me è importante per capire quello che succede, no? Quindi se avete qualche domanda, ragazzi, fatemela. Io intanto vi aggiorno un po' su quello che stiamo facendo. Allora, abbiamo aggiornato completamente il corso All-In, che tra pochi giorni uscirà. Avevo annunciato l'uscita del nuovo corso All-In per questo mercoledì, ma probabilmente ritarderemo di qualche giorno, perché ho deciso di inserire dei bonus disumani, ok? E voi sapete che quando io dico disumano, con la mandibola che gira, proprio disumano, è perché è disumano, ok? Quindi proprio poco fa ho registrato il bonus su LinkedIn, che vi avevo promesso, una roba pazzesca. LinkedIn, ragazzi, è informissima, eh? LinkedIn è veramente informissima. Se capisci come usarlo, è tanta roba. Oltretutto c'è una novità su LinkedIn, che sono le ads con i messaggi. Quindi tu puoi fare le ads che fanno arrivare i messaggi nella posta della gente. Cioè è devastante, ok? Quindi per professionisti o imprenditori LinkedIn è un ottimo posto dove espandere il proprio business, per arrivare a più persone. Quindi mi sto dedicando alla registrazione dei bonus in questi giorni e il corso All-In a qualche giorno uscirà. Quindi appello importante per chi mi segue. Se ancora non avete comprato il corso All-In, fatelo adesso, perché la bibbia del marketing verrà completamente aggiornato ad adesso. Quindi aggiornato proprio a aprile 2020, praticamente. Quindi prendetelo adesso perché aumenterà di prezzo. Che il corso All-In aumenta di prezzo, passerà a 1500€. Quindi bloccate il vostro posto adesso anche a rate, ma se bloccate il vostro posto avete la possibilità di accedere anche alla nuova versione. Ma da chi sei pagato per sparare queste false tristezze? I soldi vanno alle persone, non alle cose. Ma no, è quello che dico io, Daniele. Ma certo, è proprio quello che dico io. Dico, i soldi vanno alle persone. Ma certo. Però per fare i vari soldi alle persone, tu li devi dare alle aziende. Non puoi dare... Cosa fai? Dai un reddito di cittadinanza di 1000€ a tutti. Ma se tu dai un reddito di cittadinanza... Io sarei favorevole al reddito di cittadinanza, eh. Ma se tu spari 1000€ a tutti, o 2000€ a tutti, poi come fa a muoversi l'economia? Perché se tutti hanno 2000€ senza fare niente, dai soldi alle persone. Ma poi chi lavora, chi produce? Il paese si ferma, no? Tutti hanno soldi ma nessuno produce nulla. Quindi dove compri la roba, no? Quindi distruggi la macchina imprenditoriale in questo modo. Distruggi la produzione, distruggi tutto. Forse ti riferisci in questo momento specifico. In questo momento specifico i soldi vanno anche alle persone, sicuramente. Però il modo più veloce è riattivare le imprese. Ti sto parlando di appena riparte tutta l'economia dopo sta situazione. Ok? Ho preso l'in da poco. Grande, grande Rocco. Ciao Matteo, come vedi il mondo del network dopo la ripresa? Ah, benissimo. Benissimo. Il mondo del network non penso che possa essere intaccato dopo la ripresa. Non vedo alcun tipo di problema nel network marketing, quindi no. Anzi, secondo me potrebbe andare ancora di più, perché sai cos'è, Francesco? Secondo me il mondo ha ricevuto uno shock tremendo e tante persone si stanno risvegliando. Quindi tutti quelli che screditavano, sputtanavano i networker, chi fa affiliate, chi lavora online, tutti quelli che sputtanavano, adesso stanno zitti, stanno tutti zitti, tutti muti, no? Ragazzi il mondo si sta spostando in questa direzione, quindi i networker paradossalmente in questo momento non sono fermi. Possono comunque fare attività, possono comunque ordinare i prodotti, hanno comunque una rendita, no? E quindi penso che ci sarà anche una forte illuminazione. Si stanno illuminando le scuole, ragazzi, con l'e-learning che sembra di essere in Star Trek, mamma mia, in un film di fantascienza vedere l'e-learning in Italia o i droni che volano sopra le città, boh, mi sembra che sia cambiato il mondo in due settimane. Quindi la vedo bene, secondo me nessuno ti giudicherà mai più se fai attività online dopo questa situazione. Piccole e medie imprese è motore dell'economia mondiale. Sì, assolutamente. Non si distrugge niente, cambia solo chi possiede la ricchezza. Allora, come diavolo faccio a bloccarti? Ah, Michela! Io sono felice che tu mi voglia bloccare, però perché vieni in diretta allora se mi vuoi bloccare? Allora forse sei una fan, in realtà ti piace, no? Quindi se vuoi bloccami, se no rimani in diretta e vediamo se ti piacciono questi contenuti. In questo momento sto creando una rete assurda, ecco, vedi? Grande. Bisogna dare reddito dignitoso per far sì che sia ripristinata dal punto di vista economico una condizione di pre-emergenza, fino a che non termine l'emergenza. Sono d'accordissimo, Roberto. Esatto. Poi si può ritornare a produrre e a lavorare. Sono d'accordissimo. Ho preso SMM l'altro ieri. Ora mi parli di Olin. Qual è la differenza tra i due corsi? Allora, Antonio, SMM è un corso dedicato a chi vuole diventare un social media manager, ok? Quindi è specifico per chi vuole fare quell'attività. Olin è un corso a 360 gradi che ti spiega cosa è il marketing digitale e poi ti spiega come utilizzarlo per lanciare il tuo business oppure per costruirne uno completamente da zero, ok? Quindi molti argomenti sono simili perché la materia è quella, però l'utilizzo è completamente diverso. È come dire, non so, calcio e rugby, ok? Sei sempre su un campo, c'è sempre una palla, ma come usi quella palla è completamente diverso. Ci sono regole diverse. Allo stesso modo, ecco, anzi, diciamo calcio e pallavolo. È sempre una palla rotonda, però le regole sono completamente diverse. Se la colpisci con le mani a pallavolo fai bene, se ci tiri un calcio non lo so. Quindi dipende da come usi queste cose per produrre un risultato. Quindi nel corso SMM tutte le conoscenze del digital marketing sono insegnate per aiutare a digitalizzare un'impresa, ok? Quindi per proporti. Non è solo un corso che ti insegna le tecniche, ma ti insegna anche l'immagine personale come deve essere, creare il tuo personal brand come social media manager, chiudere una vendita, scrivere un report, quindi è specifico per chi vuole diventare un social media manager. Nel corso Lean invece tu impari a fare marketing digitale per promuovere la tua attività oppure per crearne una, quindi è per chi vuole creare un business con il digitale, ok? Quindi queste sono le differenze. Bisogna farli tutti e due, dice Rocco. Sì, anche per me. Allora, secondo me il corso SMM ti dà la preparazione assoluta su come diventare un social media manager. Il corso Lean è tutto il mondo del web, ok? Nel corso per esempio social media manager alcune strategie di marketing non sono spiegate, ma perché non ti servono, ok? Il corso Lean è tutto quello che puoi fare, quindi costruzione di funnel, retargeting, anche cose un po' più avanzate. È proprio la Bibbia, cioè il corso Lean ragazzi per chi vuole lavorare online è la Bibbia, ok? Trovi tutto lì dentro. Google, YouTube, SEO, indicizzazione, cioè è proprio il mondo. Quindi quello è. Il corso Lean è utile anche per pubblicizzare scuole di danza a livello... Ma assolutamente! È fatto apposta per quello, Giuseppe. Assolutamente sì. È fatto proprio apposta per promuovere, per esempio, una scuola di danza a livello locale. Proprio specifico su quello. Oltretutto c'è un bonus che proprio ti spiega come promuovere un'attività locale con le tecniche insegnate nel corso. Quindi è ultra specifico per te, prendilo subito. I tuoi video su YouTube sono una suefazione assoluta. Grande. Cosa ti piace di più dei video, Valik, di YouTube? Sei collegata anche a Sonia Varoli, mitica. Il corso SMM è ottimo, grazie. Il network è il campo unico più produttivo. No, ci sono molti campi produttivi in questo momento, ragazzi. Basti pensare a quello che sta accadendo con l'e-commerce. L'e-commerce in questo momento è il campo più produttivo. Ovvio, non tutti hanno un e-commerce, però, insomma, quello lo sparca. Quindi, ragazzi, fatevi il vostro coffee. Se ci sono domande, fatele, perché io sono qui per voi a raccontarvi un po' le ultime novità, a commentare gli ultimi fatti, interagire un po' con tutti. Ciao, Matteo. Sto studiando da qualche giorno SMM e mi chiedo se quando comprerò il dominio per il mio sito è meglio acquistarlo nomecognome.com. Carla, sempre .com. Quindi vai di nomecognome.com. Sì, secondo me è la migliore opzione. Una cosa importante, hai tirato fuori una gran domanda, Carla, perché non comprate i domini .it, ragazzi. Non li comprate. .it, .es, .net. Cercate di evitarli se possibile. Ora, ovviamente, non è possibile per tutti, perché a volte quel dominio è preso. Però, se puoi, il .com è la scelta migliore, perché non hai idea di quanta gente sbaglia. Quando ti cerca, vanno tutti su .com, perché nella testa della gente il .com è il sito internet. È .it, ragazzi. Ma poi hanno dei problemi anche i .it, perché sono gestiti dall'Italia. Possono esserci vari casini. Io consiglio sempre un .com. È un tipo di dominio che ti dà molte più opzioni. Sei più libero. È più veloce a rinnovarlo. Non hai mai dei casini. Secondo me è molto meglio. Il mio e-commerce adesso è fermo. Microcamere. No, no, microcamere. Rocco, le puoi vendere, le microcamere. In questo periodo, cavolo. Assolutamente sì, proteggersi. È importante. Ho digitalizzato la mia attività, ma attualmente i miei possibili clienti non lavorano. Cosa fare nel frattempo? Alessandro, vatti a vedere la masterclass che abbiamo fatto. La trovi su YouTube. C'è la masterclass Immune alla crisi. Si chiama Immune alla crisi. E poi c'è come digitalizzare il tuo business, che è l'ultimo webinar che abbiamo fatto. Tu quello che devi fare in questo momento è cercare di posizionarti sopra tutti i tuoi competitor e prepararti alla lead generation. Quindi se i tuoi clienti sono fermi, tu comunque appena riparti a tutto devi essere il primo ad essere trovato. Quindi ti prepari già gli annunci, tieni vivi i social, ottimizzi il tuo sito web. Puoi anche già lanciare delle ads e portare le persone. Uscirà un mio video su questo, su YouTube. L'ho già registrato, deve uscire. Ho fatto un video che ti spiega perché in questo momento devi fare ads anche se sei fermo. Ragazzi, in questo momento il traffico web costa come nel 2015. Quindi 5 anni fa. È come tornare nel passato con le conoscenze di adesso. Sai quante volte io ho detto cavolo vorrei tornare nel 2015? 5 anni indietro, però con le conoscenze di adesso. Ecco, è quello che sta succedendo. Quindi puoi fare delle ads solamente per fare lead generation, cioè per generare contatti. Poi li chiudi dopo, ok? Li vendi dopo la roba, ma intanto con pochi euro puoi far espandere la tua presenza digitale in un click, ok? È possibile fare up rate del corso l'Inners? Non so cosa voglio dire, Luca. Ah, vuoi fare upgrade? Se l'hai già comprato è gratis per te. Dimitri, mitico! Ti devo fare i complimenti del tuo lavoro. Grande, dimmi. Come stai? Ci siamo visti, cos'è, un paio d'anni fa da Edoardo. e fammi sapere come stai. Mitico, dimmi. Mio compagno del liceo. Mealcommerce adesso è fermo. Micro camere, ok, l'ho già letto. Quindi ragazzi, se ci sono altre questions, fatemelo sapere. C'è anche Christian Tricarico che ha suonito la diretta grande. Consigli più affiliate, SMM, o network in questo momento? Allora, so che tante persone mi fanno questa domanda su qual è l'attività migliore. Sono tutte valide. Affiliate, SMM e network sono tre attività che in questo momento possono fatturare del cash. Il discorso è qual è quella giusta per te, Carina, De Giovanni Carina, penso che Carina sia il tuo nome. Qual è quella giusta per te? Quella giusta è in base alle... alla tua predisposizione, ok? Cioè, tu vuoi fare soldi, ma i soldi sono una conseguenza della tua vibrazione. Seguimi attentamente. se tu vibri in un certo modo i soldi arrivano, ma devi essere in linea. Cioè, i soldi arrivano quando il tuo corpo, la tua mente, la tua anima sono allineate sulla stessa cosa. Quindi, se io ho un'attività estremamente renditizia a livello potenziale, quindi immaginiamo che mi metto a fare network marketing, quindi potenziale estremo, momento magari ottimo perché entro anche in un'azienda che è in un buon momento, un punto, quindi condizioni ideali, però la mia mente non c'è con la testa, quindi sono io che ho mille problemi, ho paura, ho dei blocchi mentali, lì sei fuori dal balance, sei fuori dall'equilibrio, quindi se non c'è equilibrio, se non c'è allineamento, non arrivano i soldi, non fluisce, ok? I soldi sono energia, se non sei allineato non fluisce. Quindi, metti a posto la tua mente ma c'è ancora una cosa che è la tua anima, ok? Quindi la tua anima è proprio chi sei, ok? Quindi se tu fai una cosa che contro la tua natura o contro la tua etica o contro i tuoi valori non lo puoi fare, sei comunque fuori dall'allineamento. Quindi i soldi arrivano quando la tua missione, chi sei, la tua mente, il tuo corpo, quindi quello che fai è il tuo corpo, quello che proprio fai fisicamente, no? E anche come ti senti tu, i tuoi movimenti, come ti senti dentro, eccetera. La tua mente è quello che pensi, la tua concentrazione e la tua anima è chi sei. Quando tutto questo è allineato, spacchi. Quindi se faccio l'esempio di entro in una situazione ottimale, quindi posso fare un pacco di soldi, però non ci sono con la testa, non ce la faccio. Oppure non è allineata con la mia missione. Quindi la mia anima dice, no, questo non è per te, non è tuo. Il network marketing non era la mia via. Eppure ho avuto grandi risultati nel network, ma dopo un po' me ne sono andato, cioè vai fuori dall'equilibrio. Perché mi ero reso conto che il network era limitante per me. Perché dovevo comunque avere un'azienda che mi dava delle regole e a me non piacciono le regole. Sono un po' un cane sciolto, sono un po' un ribelle. E poi non mi piaceva fare gli eventi live, ok? Non mi piaceva fare i meeting o tutti questi eventi dal vivo mi pesavano. Prendere la macchina, spostarmi. Io poi sono abbastanza introverso, anche se non sembra. Quindi stare sempre in mezzo alle persone mi portava via tanta energia. La mia anima non era per quella. A me piaceva l'online perché posso essere più comodo, mi piace di più stare a casa, quindi la venevo di più per me l'online, tutto qui, no? E allora l'ho trovato la mia via. Quindi chiediti realmente quale di queste professioni ti fa battere di più il cuore. Se ti piace il network perché ti piace l'ambiente, eccetera, allora network. Se invece ti piace lavorare con un professionista e vuoi sviluppare una carriera, vuoi trasformare la tua immagine personale, diventare, realizzarti, anche prenderti una rivincita a livello professionale, SMM, perché hai un sacco di riconoscimento, hai persone che si complimentano con te, lavori con degli imprenditori, li aiuti a fatturare, ti gasa, no, questo? Se ti gasa, allora è la tua via. Se vuoi una rivincita professionale, magari vuoi cambiare la tua immagine di come ti vedi, no? Vuoi iniziare a metterti magari un vestito più elegante, vuoi delle foto professionali, vuoi insomma realizzarti proprio da professionista, da manager, allora quella è la tua via. Se invece sei un po' più introverso, magari ti piace stare a casa, ti piace smanettare, sei un po' più nerd, tra virgolette, l'affiliazione può essere ideale, perché per chi è più introverso è ideale, non hai bisogno di nessuno, puoi fare tutto da casa, non hai riconoscimenti, in realtà, nell'affiliate marketing, perché nessuno sa chi sei, in realtà, vendi in modo anonimo magari, quindi è ideale per chi è un po' così, ok? Quindi imparate anche a conoscervi, cioè il business è un processo anche di lavoro su se stessi, continuo, non è solo faccio azione, trovo il business giusto e faccio i soldi, è anche capire chi sono io e qual è la mia opportunità. Vi interessa sta roba? Se volete approfondiamo questi argomenti, se pensate che vi possa essere utile, io ragazzi sono a disposizione in queste live il caffè con me, si parla di attualità, per chi si è collegato adesso, queste qui sono la mia serie di live che faccio durante la quarantena, si parla di attualità, economia, cerco anche il supporto di chi è esperto di economia, io do sempre un po' la mia opinione, ma può non essere giusta, no? Io cerco di dire la mia, si parla di economia, di attualità, di business, di marketing digitale e di crescita personale per chi è interessato. Cristian Sannino, ragazzi, si è collegato, ma che onore, lui è il supremo, ragazzi, il supremo. Ciao Matteo, io ho acquistato il tuo corso lì, mi dispiace solo di averlo acquistato troppo tardi. Beh cavolo, che bella testimonianza, grazie Mina. Meritemi una nicchia professionisti, avvocati, dentisti, commercialisti, qui ora si lavora, dice Dino. Sì, Dino è un social media manager del nostro corso che aveva 11 clienti, se non sbaglio, o 10 o 11, quanti ne hai Dino? Ristorante a Tenerife, come mantenere i clienti in questo periodo? Ma puoi aprire, si può rimanere aperti a Tenerife, non so com'è la situazione. Chiaramente che in questo momento devi cambiare il tuo modello di business, quindi spedire il cibo a casa, è l'unico modo, con delle promo, magari con un pacchetto mensile, dicendo alle persone, guarda che se paghi tot, hai il tuo cibo ogni giorno consegnato, mettendoti su tutte le app, Deliveroo, Just Eat, so che Just Eat va fortissimo in Spagna, io l'ho usato per molto tempo, adesso c'è Uber Eats, devi essere su tutte queste app, e poi magari anche con un po' di ads a pagamento, perché sentiti l'angolo di attacco, ok? Ehi, ci vogliono sette giorni per avere la spesa, immaginati invece se ogni giorno ti arrivasse il tuo cibo a casa garantito, bam, no? Sono nella cacca, con le consegne, ci mettono un sacco, tu ogni giorno puoi fare il cibo a casa della gente, magari vendendo addirittura un pacchetto, dove pagano non so 300 euro, 400 euro, e ogni giorno hanno il cibo. Ci puoi mettere un call center a disposizione dello supporto di marketing genius, sul quale noi possiamo chiamare direttamente per risolvere i nostri problemi tecnici? Il supporto telefonico per i problemi tecnici, ti spiego qual è il discorso falli, che il supporto telefonico non ce la fa risolvere i problemi tecnici, perché una persona al telefono non può mettersi al pc, lì ci vogliono i programmatori, quindi abbiamo messo il supporto via email, che è attivo 24 ore su 24, ragazzi il supporto di marketing genius è una roba disumana, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e rispondiamo al 100% delle email, nessuna esclusa, tranne quelle stupide, perché ogni tanto arrivano email senza senso, o spam, tra tutte le altre rispondiamo a tutti, quindi falli, se hai problemi tecnici, scrivi al supporto, e noi li risolviamo, via email è più semplice il problema tecnico, perché ci puoi dare le credenziali, o mandare uno screenshot, invece al telefono è più complesso capire esattamente cosa succede, con l'email allegando uno screenshot riesci a farci vedere cosa c'è che non va. Consigli su come aumentare portata organica e generazione di contenuti virali, lì Roberto dovresti farti il mentor program, perché lì ce n'è da parlare, per far andare virale, portata organica la raggiungi se pubblichi ogni giorno, ma comunque è limitata, ok, per generare contenuti virali, l'ideale è creare un bel contenuto, pusharlo a pagamento con pochi euro, e lì ti genera la viralità, è il modo più veloce, soprattutto contenuti di tendenza, poi dipende da cosa vuoi fare andare virale, eccetera Roberto, però per esempio se io faccio un contenuto sul coronavirus, in questo momento vado virale, è molto facile andare virale, quindi dipende dall'angolo di attacco, da cosa vuoi promuovere, insomma. Una cosa importante tra l'altro ragazzi, un altro annuncio importante, c'è il mentor program, io ho messo il link qui sopra se sei su Facebook, o qui sotto se sei in YouTube, e lunedì prossimo, il 6 aprile, inizia il mentor program. Il mentor program sono 8 settimane in cui lavori direttamente con me, vieni seguito personalmente da me e Fabio Gallerani, per 8 settimane per far esplodere il tuo business, ti diamo anche la pagina web e te la installiamo, quindi hai veramente tutto chiave in mano per spaccare, tantissimi studenti l'hanno già fatto, è un corso che ti cambia la vita, veramente ragazzi, chi l'ha fatto lo sa, sono 8 settimane dove ogni lunedì ci prendiamo 2 ore di tempo, se non riesci a collegarti in diretta, hai il replay, però 2 ore ogni lunedì e andiamo a lavorare sul tuo business, è una roba fuori di testa. Fate il mentor program anche perché ragazzi, è l'ultima edizione del mentor, esatto, è l'ultima edizione del mentor, quindi non ci saranno più altri mentor program, le richieste che abbiamo di consulenza privata sono molte di più rispetto a, e ovviamente costano di più rispetto al mentor program, quindi le prossime edizioni del mentor program saranno assolutamente chiuse solo per imprenditori che pagano molto di più, quindi solo per grandi aziende, non ci sarà più possibilità di fare il mentor program, quindi fatelo ragazzi perché è l'ultima edizione, l'ultima occasione per lavorare con me e con Fabio personalmente, ok? Quante pagine posso fare con SiteGround? Quante ne vuoi? Infinite. Carlo, infinite. Io a Gran Canale è tutto chiuso, però qualche ristorante o pizzeria fa consegne a domicilio, qui è un disastro perché l'economia è prettamente impostata sul turismo, eh sì, ma anche qua a Dubai, guarda che qua a Dubai, anche se non sembra, non è il petrolio, è il business principale, qua il terziario, il turismo va fortissimo, e Dubai è vuota in questo momento, quindi è un danno ovunque, poco prima che mettessero la quarantena sono andato a farmi un giro, era tutto chiuso, ristoranti vuoti, è un gran casino, è un gran casino, è chiaro che in un posto come Gran Canaria e il turismo è tutto, perché non ha grandi risorse, no? Quindi cosa si può fare in questo caso? Io non so di cosa ti occupi tu, Fanny, però puoi modificare il tuo modello di business in questo caso, se tu hai bisogno di persone fisicamente con te e le persone non arrivano, si cambia modello di business, si cambia business, non abbiate paura di cambiare, nella vita ragazzi, se non cambi muori, se non ti adatti al cambiamento muori, ok? Ce lo insegna la natura, ce lo insegna la storia, io penso che questo periodo forgerà i più grandi imprenditori di sempre, cioè dopo questa fase di down, ci sarà una fase di prosperità e di ricchezza incredibile, secondo me, perché chi rimane saranno veramente dei top, le epoche è turbolente, ragazzi, creano i più grandi leader, io lo dico sempre, le epoche è turbolente, creano i più grandi leader. Parlavo di recente con Claudia Bellan, nostra cliente che ha il centro yoga, come sapete, Claudia mi ha detto, cavolo Matteo, io ho digitalizzato la mia attività, ma non sapevo da dove partire, cioè non l'avrei mai fatto, capisci? Cioè se non fosse apparsa questa situazione, non l'avresti mai fatto. Quindi tutte le cose più geniali, tu le tiri fuori quando sei nei casini, è così, cioè la supremazia del cervello umano, ragazzi, si vede in queste situazioni, quando veramente sei, la vita ti spinge al limite, perché quando è tutto facile non ti sbatti, non arrivi veramente a ingegnarti, invece quando le situazioni lo richiedono, l'uomo tira fuori veramente il suo intelletto, e quindi i grandi imprenditori escono adesso, ragazzi, escono ora, è facile fare i fenomeni quando va tutto bene, ma quando la situazione è difficile, cosa fai? Lì si vede il mindset del vincente, lì si vede il mindset dell'all-inner, ok? Noi parliamo di questo, questa qui è la nostra cultura, ragazzi, essere un all-inner, dovete diventare degli all-inners, come si diventa all-inners? Basta che ti compri il libro all-inners, te lo leggi e capisci di cosa sto parlando, questi braccialetti che abbiamo creato, che li diamo ai nostri eventi dal vivo, agli eventi di Marketing Genius, diamo questo braccialetto con scritto all-inners, su che è un braccialetto di gomma da un euro, che in realtà potremmo anche regalare, ma noi potremmo anche vendere a 2 euro, 10 euro, qualsiasi cosa, però non lo vendiamo, lo diamo solamente agli eventi. Questo braccialetto da un euro, che apparentemente non vale niente, le persone non se lo tolgono mai, perché all-inners significa che sei una persona che non molla mai, e ragazzi è l'unico modo di avere successo, non ne esiste un altro, l'unico modo di avere successo è diventare un all-inner, cioè una persona che non molla mai, che va all-in fino alla vittoria, come nel poker quando metti tutte le fish sul tavolo e dici vaffanculo, vado e spacco il mondo, così, è l'unico modo, non ci sono altri modi, devi andare all-in, e chi ha deciso di eccellere, di spaccare, e non importa quello che accade attorno, i risultati li ha, ok? Ci sarà una selezione naturale tra professionisti e dilettanti, giusto? Ma ti dico di più Giuse, sai cosa ci sarà secondo me? Ci sarà una selezione naturale tra persone che ci credono, e persone che non ci credono, tra all-inners e mollers, i mollers sono quelli che mollano, ok? Noi li chiamiamo i mollers, cioè c'è pieno di mollers, saranno tutti dei mollers, dei molluschi, i supermercati tornano a chiudere la domenica, pesante, davvero, non mi è arrivata sta notizia, il mentor program, di cui parli è gratis? No Dimitri, no no no, gratis uguale no soldi, io ragazzi sono contrario alle cose gratuite, perché io sto male se non pago, ok? Io se non pago sto male, di recente mi hanno invitato a una serie di conferenze, su temi che mi interessano di spiritualità eccetera, e ho detto, ma cavolo, ma perché non vendono un corso? Io sto male ragazzi, io se non pago sto male, perché so che quando pago ho la qualità, ok? Quando tu hai la roba gratis, gratis uguale no soldi per chi l'ha creato, e quindi no qualità, non esci da lì, tu non puoi avere qualità senza i soldi, è impossibile, se io voglio creare il computer più figo del mondo, ma non ho soldi per pagare gli ingegneri, non ho soldi per pagare i materiali, tutti vorrebbero tutto gratis, no? Soprattutto le informazioni, non so perché c'è questa storia, no? che le informazioni devono essere gratuite, ma cosa vuol dire che le informazioni devono essere gratuite? Le informazioni sono gratuite, tu puoi andare ovunque a trovare le informazioni, quello che non trovi però è il nesso, non trovi il collegamento, cioè esistono i corsi proprio perché altrimenti ci metti una vita a studiarti tutto, ok? Immaginati se anziché la scuola, no? Non so, università di medicina, tu entri e dicono, ok, è gratis, non paghi niente, non c'è da pagare, è tutto gratis, però enjoy, qua ci sono 100 milioni di libri, vatteli a leggere tutti, come fai? No? Questo è quello che avviene su internet, questo è quello che avviene con i corsi, le informazioni le trovi in giro, se tu ti passi il mondo, la vita, cercare su YouTube, su Google, eccetera, e cerchi ogni cosa, prima o poi trovi qualcosa, ok? Però le trovi in varie lingue, in vari modi, le fonti non sono attendibili, perché magari trovi un'informazione ma non sai chi è che realmente l'ha detta, chi l'ha scritta, che valore ha, no? Quindi hai fonti non attendibili, hai informazioni sparpagliate, hai informazioni che non sono organizzate, hai informazioni in lingue diverse, come fai? All'avere successo, perdi la vita, quindi io sono contro le robe gratis, sono assolutamente contro le robe gratis, fatevi pagare ragazzi quando date valore, quando non date valore non fatevi pagare, ma quando date valore ragazzi fatevi pagare, cioè viva i soldi, viva la roba pay, pay ragazzi, no pay, no game, così è, pay to play si dice, in inglese dicono pay to play, cioè paga per giocare, così pay to play, pay to play ragazzi, mi dicevo che devo pagare per avere l'aggiornamento del corso all in, hai detto che era gratis a vita, è gratis l'aggiornamento Enrique, è gratis, quindi iscrivi al supporto, ho già informato il supporto, ok? L'aggiornamento è gratis per tutti i miei clienti del corso all in, ok? Quindi il supporto, avrete mandato un'email, con la procedura, l'unica cosa che ti chiediamo è una testimonianza, se sei già nostro studente, e dovrebbe esserti arrivato un'email del supporto con questo, altrimenti iscrivigli e te la facciamo arrivare. Per chi è più tecnico è consigliato il corso da SMM, cosa intendi per chi è più tecnico Federico? Che hai già esperienza? Dipende, allora il corso SMM ragazzi è per chi vuole diventare un social media manager, ok? Per chi invece vuole mettere sul proprio business, o lanciare un'attività online, capire come digitalizzare la propria impresa, fatevi il corso all in, ok? Il corso social media manager è per chi vuole diventare un social media manager, quindi un professionista riconosciuto che si occupa di digitalizzare le aziende, ok? Il mentor program, ok? Farei il mentor se mi sconti i soldi del corso che ho già pagato, ragazzi, no, non si può fare sta roba, ok? Ragazzi, il mentor program sono otto settimane, in cui vi prendiamo mano per mano, io e Fabio Gallerani, e vi guidiamo in ogni singolo click verso il successo, cioè vi impostiamo il sito web, intanto l'installazione del sito web la fa il mio team tecnico, vi diciamo come migliorare il vostro sito se avete già un sito, rivediamo il vostro posizionamento, vi insegniamo a fare le ads, vi insegniamo a copywriting, quindi a scrivere in modo efficace, è un corso ragazzi fuori di testa, cioè dovrebbero farlo tutti, veramente il mentor program dovrebbero farlo tutti, e poi è l'ultima occasione, Matteo non sono, non sono pronta che con i tuoi corsi, prima o poi acquisto tutti i vostri corsi, grande Maya, grazie, grazie. Per rispondere anche a Enrique, allora ragazzi, chi ha già il corso all in, gli aggiornamenti sono inclusi, ok? Se il supporto ti ha detto che, che devi pagare, è perché probabilmente non hanno visto che avevi già il corso all in, ok? Che l'avevi già acquistato, quindi Enrique, non ti preoccupare, garantito, gli aggiornamenti sono per tutti i nostri clienti, quindi chi ha già il corso all in, avrà l'aggiornamento del 2020, ok? non ti preoccupare, quando sei una merda ti rifori il meglio, è vero eh, lo dice sempre mia moglie che ha iniziato online quando era l'unica via d'uscita per lei, dopo aver perso il lavoro, ma è così, è stato un po' così per tutti, ok? Consigli il mentor per chi inizia, se tu hai già un tuo business, Giuseppe ti consiglio il mentor, anche se parti da zero, ma se non hai niente da promuovere, ti fa il corso all in, ok? O se ti ispira il discorso di fare un social media manager, ti fai il corso social media manager, ok? Una domanda probabilmente stupita, quanto tempo bisogna secondo te impiegare per concludere il corso e per avere le conseguenze dei miglioramenti? Al momento lavoro con un'azienda di network marketing e ci occupiamo di benessere, allora, secondo me Stefano come tempistiche, allora è ovvio che non diventi un professionista del digitale in una settimana, però, io ho visto persone che hanno fatto i nostri corsi che in tre settimane avevano già degli ottimi risultati, alcune persone anche il giorno dopo che hanno finito il corso, ma sono casi pazzeschi questi, la maggior parte delle persone, per darti una stima, in tre mesi riesce già ad avere un ottimo livello, avere dei risultati, dai tre ai sei mesi, ok? Poi ci sono persone che ci mettono un annetto, però nel giro di un anno, ragazzi, chi è costante, risultati sicuri, ok? Se uno è costante nel giro di un anno, cambia completamente, perché un anno è tanto tempo, però è un anno dove tu devi avere il focus, ok? Cioè, quello che io vedo là fuori, ragazzi, è una mancanza di chiarezza devastante, cioè devastante, nessuno sa cosa cavolo vuole, allora, quando tu capisci cosa cavolo vuoi, che è il primo step, a quel punto vai all in, ti metti a studiare il corso che hai comprato, fai azione, i risultati arrivano, è matematico, è matematico, ok? Però tutto parte, infatti io dico sempre questo, ci sono le capacità altamente monetizzabili, le capacità altamente monetizzabili, nel mondo online, sono, ovviamente, la capacità di creare dei funnel, di lanciare annunci, di fare copywriting, quindi scrittura persuasiva, e poi c'è la capacità altamente monetizzabile, più potente di tutte, che è quella di prendere decisioni, ok? Prendere decisioni, dovete imparare a prendere decisioni, quindi ho deciso di partire, mi compro il corso oggi, non domani, non dopodomani, cioè, prendere decisioni ragazzi, io sono sempre stato una persona decisa, sempre, anche a costo di sbagliare, io mi buttavo sempre, mi buttavo, poi magari sbaglio, però poi trovo la via giusta, è così eh? Prendere decisioni, un consiglio, ma se un business network marketing conviene creare, ma su un business network marketing, conviene creare ad esempio un sito personale, assolutamente sì Giorgio, ma tu ci sei nel corso Lean, queste cose le spiego, ci vuole il sito personale, fondamentale, non usare il sito dell'azienda, non usate mai il sito dell'azienda, per chi fa network, mai, perché lo usano tutti, quindi sei solamente un altro distributore, no? oppure un sito con nomi generali, no no no, un sito personale, assolutamente, ma per migliorare il proprio business, è meglio il mentor o l'inzia, e tu hai già un business, Stefania, il mentor, ok? Il mentor, prendete il corso, è il top, grande, grazie Giuseppe, grazie di cuore. Allora ragazzi, per chi non fosse sicuro, che corso fare, scrivete al mio supporto, a info.matteopitaluga.com, e potete prenotare una chiamata gratuita, con un esperto del mio team, che in base alla vostra situazione, vi consiglia che percorso fare, allora il discorso è questo, quindi se sei incerto, puoi fare così, puoi contattare il mio team, info.matteopitaluga.com, e scoprire qual è il corso più adatto a te, in base al tuo caso specifico. Per riassumere, no, quelli che sono i miei corsi, i miei progetti, c'è il corso Social Media Manager, che è solo ed unicamente, per chi vuole essere pagato, come Social Media Manager, quindi chi vuole iniziare questa professione, se fai il corso lì, che è la Bibbia del Marketing Digitale, e poi ti metti a fare il Social Media Manager, puoi farcela, perché hai ottime competenze, ma non sai come applicarle in quel settore specifico, perché tu sai fare tutto, ma non sai come acquisire un cliente, come chiuderlo, come portarlo a farti pagare di più, cioè non sai come lavorare da Social Media Manager, no? Quindi il corso Social Media Manager è proprio specifico per chi vuole essere pagato, per lavorare da casa e gestire i social delle aziende, digitalizzare le aziende, creare la loro presenza online, quello è il corso Social Media Manager. Questo è per tipi di persone che sono alla ricerca di una carriera, ok? Di chi vuole una professione, chi vuole essere riconosciuto come un professionista, affermato, aiutare aziende a prosperare, lavorare da casa ovviamente, e quindi collaborare con aziende che ti pagano per gestire i loro social, è solo su quello, ok? Tutto è importante su quello, ti insegniamo dove trovare i clienti, come chiuderli, come farti pagare il primo mese, come farti pagare di più, ci sono i contratti come bonus, quindi hai il contratto anche che ti protegge come Social Media Manager quando lavori, c'è il nostro studio di commercialisti che ti dà anche orientamento fiscale, abbiamo un tutor all'interno del gruppo che ti aiuta ogni settimana, insomma è disumano ragazzi, cioè è una roba fuori di testa, hai il tuo team di programmatori, quindi hai a disposizione il team di programmatori di Marketing Genius che ti aiutano, quindi se tu devi fare degli interventi su un sito di un cliente, o hai un cliente che ti dice, guarda voglio fare l'e-commerce, tu hai già il team di programmazione che ti fa tutto, e ti pigli pure la commissione, quindi è fuori di testa quel corso, è fuori di testa, ok? Però è solo per chi vuole fare la Social Media Manager, se invece hai un tuo business da promuovere, ok? O fai network marketing, quindi hai già qualcosa da promuovere, oppure sei una persona che vuole costruirsi un business online, quindi vuoi capire come creare il tuo e-commerce, vuoi capire come creare un infoprodotto per esempio, e venderlo, insomma vuoi lanciare un business online, ti fai il corso Lean che è più su quello, che è più per chi vuole fare business online, quindi queste sono le grandi differenze, e poi per chi invece è un imprenditore e vuole lavorare con me, c'è il mentor program, quindi il mentor program è come il corso Lean, quindi impari a digitalizzare tutto, ma sei seguito da me, quindi è più potente, no? info-matteopettaluga.com per contattare il mio ufficio, info-matteopettaluga.com È possibile che ci sono i social media manager di Torino e provincia? Grazie Matteo. È possibile che ci sono i social media manager di Torino e provincia? Non lo so chi c'è di Torino, pubblica nel gruppo Rocco che ci siamo tutti i social media manager, nel gruppo Facebook lo scopri, C'è qualcuno di Torino? Assolutamente. Info-matteopettaluga.com se avete bisogno di info sui miei corsi, ragazzi, ok? Tra poco io torno alla registrazione di contenuti bonus, c'è il bonus su LinkedIn che sto preparando, la roba fuori di testa, sarà inserito nel corso Lean, e mi sto cimentando con le ads di LinkedIn, ragazzi, che in questo momento anche le ads di LinkedIn sono calate di costo. Quindi io vi dico, ragazzi, fate ads a pagamento. Fate le ads in questo momento. So che le persone hanno sempre un po' paura a fare gli annunci a pagamento, a dire cavolo ma spendo 5 euro al giorno, 10 euro al giorno, cioè la vedi come una tassa. Invece non è una tassa. Se sai fare le ads, è il migliore investimento che tu possa avere. Il migliore in assoluto, ok? È il migliore in assoluto. Io sono partito così e ragazzi, io ogni euro che avevo lo buttavo in annunci pubblicitari. Perché avevo già capito anni fa che l'esposizione è tutto sul web. Devi avere traffico, devi avere persone che ti trovano, devi avere ogni giorno persone che ti vedono e a quel punto pagano. Quindi ogni euro che avevo lo buttavo in pubblicità. Ma io avrò speso, ragazzi, ma forse più di un milione in ads. Forse più di un milione in ads, solo in pubblicità. Quindi vi dico che sono tanti soldi, sono tanti tanti soldi. Quindi ho capito così. Però sono partito da 5 euro. 5 euro quando potevo. Poi spegnevo le ads, poi altri 5 euro, poi altri 5, poi 10. Poi iniziano ad arrivare i primi risultati, allora ne spendi 20 al giorno. Poi impari, perché ovviamente con l'esperienza migliori, no? Testi, capisci cosa funziona e cosa no, e dopo un po' vai in profitto. E quando vai in profitto è come stampare soldi, veramente. Io ho rinunciato a fare investimenti perché c'erano aziende o, sai, fondi di capitali che mi dicevano eh, se vuoi facciamo un investimento, sai questi fondi, no? Di investimento, i mutual funds, no? Cioè mettili i soldi, fanno il... Come si dice in italiano? Non mi ricordo. Vabbè, non mi viene in italiano. Comunque gruppi di azioni, no? Metti i soldi, fanno l'acquisto di un immobile piuttosto che operazioni di trading, eccetera. Quindi proprio business di investimento. E ho rifiutato per un motivo, perché ho detto non c'è niente che ti dà un ROI più alto delle ads. È il ROI più alto che c'è. Cioè se sei scarso, magari fai il 10-15% di profitto. Se sei scarso. Se sei forte, fai il 50-100% di profitto. Una roba fuori di testa. Perché le ads costano come nel 2015? Perché c'è meno... C'è meno concorrenza. In questa fase che tanti business sono fermi, loro hanno detto non faccio le ads, le spengo. Quindi tutte le attività che sono chiuse non fanno pubblicità perché dicono eh, tanto sono chiuso non vendo. Ma le ads tu non le devi fare solo per vendere adesso. È lì l'errore. Le ads tu le devi fare per generare interazioni. Questo lo spiego nei miei corsi, ok? Il modello di business online adesso è portare persone a conoscerti e poi ritargetizzarle e riapparirli davanti finché non pagano. Questo è il modello di business. Quindi immaginiamo che in condizioni di economia normali non so, per portare 100 persone sul mio sito bisogna di spendere 10 euro. Immagini, esempio, in pubblicità. Quindi con 100 click con 10 euro li porto sul mio sito. Ma adesso con 5 euro ne porti magari 200. capisci? Quindi con molti meno soldi e molte più persone che ti trovano scoprono chi sei e poi li puoi ritargetizzare puoi riapparirli davanti oppure catturargli i dati e chiuderle dopo. Quindi aumenti la tua esposizione puoi far crescere una fan page puoi arrivare a 10.000 fan, 100.000 fan quindi parlo solo di Facebook e Instagram che sono i due principali ma anche YouTube ha avuto un crollo incredibile nella pubblicità LinkedIn anche quindi essenzialmente un po' tutti ma io la differenza grossa, grossa, grossa l'ho vista su Facebook in sti giorni. Disumano. Cioè disumano. Per fare ads è un momento top ragazzi. Top. E anche lì vedi quando tu vuoi fare soldi basta che guardi cosa fa la massa e vai in direzione opposta. Tutti spengono gli annunci io li attivo. Capito? Perché mi piglio tutto io. Tutto mi piglio. No? Ho più visibilità di tutti così. Puoi asfaltare tutti i tuoi competitor, eh? Perché adesso gli entri nella testa della gente e poi quando i clienti si piglieranno bene o potrai riaprire la tua attività ci sei solo tu nella loro testa. Ti posizioni per primo su Google ti metti già lì ti metti lì ovunque. Quindi ragazzi fatelo, fatelo, fatelo promuovetevi adesso. Ok? Fatevi il mentor program. Da lunedì si parte. Sono otto settimane dove io vi guido in ogni step. Tante persone mi chiedono ok, ma qual è la differenza tra il corso all-in e il mentor program? Il corso all-in te lo studi ma nel mentor ci siamo noi dal vivo a spiegarti quelle cose e hai anche in più il corso all-in. Quindi hai il corso all-in più il nostro aiuto dal vivo che è senza prezzo. No? Sei qualcuno che ti aiuta. Cioè Matteo ma il corso può essere utile anche per un'attività idraulica e ristrutturazione assolutamente sì abbiamo molte persone Alissio non so se è Alissio o Alessio comunque Alissio sì assolutamente sì per farti trovare hai bisogno di questo corso fattelo assolutamente sì diventi il numero uno anzi io ho lavorato con idraulici elettricisti persone che lì è talmente facile perché non hai concorrenza proprio non è sono pochissimi digitalizzati veramente fai tre azioni ti guardi in metà corso e già hai il telefono che suona ogni giorno garantito guarda il retargeting comunque si paga cosa vuol dire si paga? Certo che si paga si paga il retargeting su FB costano meno le alz ma il target che gli dai non viene rispettato non penso Paolo a me nel mio caso a me girano bene le alz non ho visto curvature diciamo in basso le mie alz tuttora sono attive grande Roberto come sta andando Roberto da te? come procede? grande Roberto domanda offerta il prezzo cala sì è così ragazzi una cosa importante appunto vi dicevo su LinkedIn visto che tutti stanno impazzendo LinkedIn me la sto studiando bene le ads su LinkedIn se non le avete fatte provatele provatele perché danno buoni risultati in questo periodo ok? chiaramente per chi è per chi vende business to business se tu fai business to consumer quindi vendi a cliente finale non fare le ads su LinkedIn perdi tempo assolutamente cosa ne pensi del marketing automation ma marketing automation è una branca intera del marketing io sono un amante della marketing automation non so se mi stai parlando di un software che si chiama marketing automation ma non credo penso che sia una domanda su cosa è la marketing automation quindi marketing automation io sono esperto in quello tutto quello che puoi automatizzare a me piace non potrei mai automatizzare al 100% io ho capito una cosa ragazzi l'automazione totale è pressoché impossibile cioè non ce la fai a creare qualcosa che è automatico sempre è impossibile però puoi automatizzare i settori interi del tuo business puoi automatizzare le mail puoi automatizzare la generazione di contatti puoi automatizzare il modo in cui dai informazioni per i tuoi clienti puoi automatizzare il post vendita più riesci ad automatizzare più soldi fai perché usi meno risorse e concentri il tuo tempo sulle attività altamente produttive siete grandi mi sono innamorato della vostra filosofia soltanto ascoltandovi grazie grande Mina per smm linkedin va bene fare ads sì Rocco ma per smm vi do una dritta per tutti gli smm l'ascolto non dovrei neanche rivelare queste cose però ve la dono così su linkedin tu puoi ricercare delle delle professioni quindi puoi ricercare per esempio imprenditore e poi se vai nei filtri puoi filtrarli per categoria per settore quindi su linkedin posso cercare non so imprenditore o titolare di impresa e poi metto filtri e metto non so moda quindi trovo i titolari di negozi di moda o titolari comunque di attività nel mondo della moda posso farlo per esempio ristorazione posso farlo per tantissimi settori arte cultura posso farlo per moltissimi settori quindi con linkedin puoi arrivare a diciamo trovare i proprietari di aziende nella tua nicchia e lì proporti da smm chiaramente devi avere una devi avere il sito web insomma tutto quello che insegniamo nel corso quindi devi avere la tua presenza da social media manager ben fatta social media manager ragazzi non è solo un corso è una filosofia ok cioè tu devi noi diciamo metterti il mantello del social media manager è che se ti metti il mantello sei come un supereroe che salva le persone hai un'identità no superman lo riconosci batman lo riconosci hanno un mantello hanno un'identità ok però tu social media manager se vuoi aiutare le aziende a digitalizzarsi e poi hai una immagine digitale che fa schifo non sei molto credibile no non mi sembra beh che tu ti spacci per quello che aiuta le imprese a digitalizzarsi a curare i loro social e poi tu c'hai la foto con la birra e allora non va tanto bene allora prima lavori sulla tua immagine personale la tua presenza online e poi vai a proporti ok e lì sei l'esempio chiaro di del fatto che insomma sai quello che stai facendo no a me fa ridere oggi mi ha scritto uno su instagram ehi ciao ti posso portare a 100.000 follower guardo la sua pagina 20 follower ma allora scusami eh se tu mi avessi dimostrato che ne hai 200.000 allora ci credo che mi fai arrivare a 100.000 follower ma se ne hai 50 chi sei capisci non sei credibile no è uno studio di lead smm è vero come dice Islam ormai sono preso completamente l'smm grande forza rocco grande per un business relativo quindi arredamenti smart dove è meglio fare le ads facebook o altro arredamento smart non so se i tuoi clienti Stefania sono privati o sono aziende se sono aziende è linkedin se sono privati google 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 ads google ads per te google ads perché è talmente di nicchia no che le persone vanno a cercare su google questa roba i miei prodotti da vendere su facebook in questo momento beh lo sappiamo quali sono in questo momento te ne dico una non banale perché ti direi le solite banali mascherine e robe per la casa di diciamo di parafarmacia questi prodotti qua vitamina c vitamina c potentissimo quindi integratori potentissimo ma ti direi per dirvi una cosa non banale fitness prodotti di fitness fitness lo sapete che è in questo momento su amazon la categoria più con più vendite ma anche i libri i libri hanno avuto un'impennata perché la gente a casa dice ah finalmente posso leggermi qualcosa no e vanno a cercare i libri noi abbiamo avuto un'impennata con il nostro libro lì è una bella impennata nelle vendite quindi ve lo dico perché lo vedo quindi ti direi questo il pubblico che le visualizza non è quello scelto anzi ho visto anche pagine fake ma questo qui è facebook che ti manda in botta le ads paolo spegni tutto fai così spegni le ads falle ripartire e se vendi in italia metti lingua italiano inserisci lingua italiano ok perché a volte facebook ti sparli annunci che se metti non so paese italia ma non metti lingua italiano a volte ti vedi mille like di arabi indonesiani roba assurda quindi in questo caso è un bug di facebook blocca le ads falle ripartire metti lingua italiano secondo me potresti sistemare sicuramente ok champions mi auguro che questo caffè con matteo vi sia piaciuto ragazzi io torno alla registrazione dei bonus ok importante call to action ok qui sopra c'è il link per il mentor program ok questo è solamente dedicato agli imprenditori professionisti quindi chi parte da zero ragazzi non fa per voi il mentor program è per chi ha una propria attività e vuole digitalizzarla vuole spostarla sul web più in fretta possibile c'è il link qui sopra se sei su facebook o qui sotto se sei su youtube per tutti gli altri se avete bisogno di info scrivetemi a infochiocciolamatteopittaluga.com vi ricordo che il mio cognome è pittaluga e non pittalunga quindi è infochiocciolamatteopittaluga.com ok forza ragazzi un abbraccio e a prestissimo